La modifica della legge elettorale regionale deve appartenere a tutti i cittadini del Molise che hanno il diritto di decidere sul futuro della regione. Il presidente di Confcommercio Paolo Spina si inserisce nel dibattito in corso tra le forze politiche e sollecita il coinvolgimento di tutte le forze sociali, economiche e imprenditoriali affinché venga definita una visione comune sul futuro del Molise, capace di creare le prospettive e le condizioni di un effettivo rilancio dell'economia. Il dibattito sulla modifica alla legge elettorale, ha dichiarato Spina, rischia di diventare un confronto tutto interno alla casta. Per il presidente di Confcommercio la categoria da lui rappresentata deve far sentire la propria voce in una fase così importante come quella che vive in questo momento la regione. Il timore è che venga approvata una legge volta esclusivamente alla salvaguardia della classe politica espressa dai microterritori non orientata allo sviluppo dell'intera regione. In questa prospettiva, ha aggiunto Spina, appare padostale la proposta di introdurre un terzo collegio invece di provare ad accorpare gli attuali due in un unico collegio regionale. La suddivisione in collegi del ristretto territorio regionale potrebbe garantire la rappresentanza consiglieri eletti solo sulla base dell'appartenenza geografica e giocoforza rappresentanti di quell'unico territorio al quale devono la loro elezione. Un risultato, ha aggiunto, che limita invece che ampliare la competizione elettorale e la riduce ad un rituale quasi condominiale, visti i piccoli numeri sufficienti, in qualche caso, per essere eletti. Spina auspica il convolgimento della popolazione. In mancanza di un istituto referendario sulla possibilità di proporre una legge elettorale popolare, ha concluso il presidente, sarebbe opportuna la presentazione di uno schema di legge che parta dal basso, da sottoporre l'attenzione del Consiglio regionale, che vada oltre e respinga lo sterile esercizio delle audizioni.